Fratelli e sorelle, tutti ben ritrovati. Ci prepariamo alla trentatresima domenica del tempo ordinario, meditando il capitolo 13 di Marco, dai versetti 24-32. Oggi il tema delle letture ci invita a guardare a sorella morte, con lo sguardo già rivolto domenica prossima quando celebreremo Cristo Re dell'Universo, ossia colui che ci introdurrà nel Regno del Padre, dopo averlo tanto invocato. Padre nostro, venga il tuo Regno. Ma a cosa è servito questo cammino che si è snodato durante questo anno liturgico? Perché tutte queste premure, attenzioni, richiami di Gesù? A quale pro? La prima cosa che mi viene in mente è il mondo del calcio. A cosa serve l'allenamento se non per cercare di giocare bene la partita? O nell'ambito musicale? A cosa serve il solfeggio se non per educarsi a suonare correttamente? O nell'ambito scolastico? A cosa serve lo studio se non per formarsi, prepararsi agli esami e soprattutto alla vita? Insomma, per ogni disciplina c'è sempre un prima che precede la partita. Ed è quanto ha fatto Gesù con noi durante questo anno liturgico. A cosa sono servite? E servono tutte le sue attenzioni, i suoi consigli, se non per darci gli strumenti e indicarci gli atteggiamenti per aiutarci a vivere bene e con gioia la partita della vita. Per saperci allenare nel cogliere tra le pieghe dell'esistenza la presenza amica e discreta di Dio e così aderire a Lui con tutto noi stessi. Un rispondere che non riguarda solo le grandi chiamate, pensiamo al sacerdozzo, il matrimonio, la vita consacrata o l'ultima chiamata, sorella morte, ma un rispondere in ogni attimo, lì dove Lui ci chiama a testimoniare il Suo Vangelo, a rendere ragione della speranza che muove la vita e le scelte per essere trovati un giorno pronti all'incontro con il Signore Gesù, Re dell'Universo. La liturgia introduce il Vangelo con la prima lettura, tratta dal libro del profeta Daniele, proprio nel momento in cui l'arcangelo Michele sorgerà e, dice il testo, molti di quelli che dormono si sveglieranno, gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi invece splenderanno come lo splendore del firmamento, come le stelle per sempre. E dunque il tempo del giudizio. E solo pensare a questo prossimo incontro, porta il salmista, e confidiamo ciascuno di noi, a cantare, il Signore è mia parte di eredità. Egli sta alla mia destra, non posso vacillare. Il testo del Vangelo ci introduce così nel cuore del messaggio. In quei giorni, disse Gesù, dopo quella tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Il linguaggio apocalittico ripreso dal profeta Isaia ha la funzione di illustrare il giudizio ultimo. Vedete, le stelle, le costellazioni nel cielo non daranno più luce, il sole oscuro indica che sole, luna, stelle sono cioè gli elementi che noi ritroviamo nel testo della Genesi quando Dio li fissò in cielo. E il profeta Daniele vuole aiutare a cogliere che quanto ha orientato intere generazioni, pensiamo i nomadi nel deserto che vengono guidati dagli astri, ebbene tutto questo si spegnerà. In questo modo nessuno avrà più un elemento che gli permetta di orientarsi, ritrovandosi così in balia del disorientamento e dell'incertezza. E in questo contesto di sconvolgimento e disorientamento, ecco che il testo del Vangelo continua. Vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Alla fine dunque, mentre tutte le stelle cadranno, emergerà la stella che durerà per sempre, il Signore Dio, Gesù, il quale verrà sulle nubi del cielo ed esprimerà il suo ultimo giudizio. E con il suo ritorno glorioso, Gesù sarà l'unico punto di riferimento al quale volgere lo sguardo. La parabola e la parola che abbiamo ascoltato in quest'ultima domenica dell'anno liturgico è certamente enigmatica, ma forse ci aiuta a riguardare per un istante il percorso compiuto. Due domeniche fa, se ricordate, segnalai che i Vangeli di queste ultime domeniche ci fanno incontrare una serie di passi in avanti verso Gesù. Oggi vorrei guardare a queste ultime domeniche attraverso la categoria dello sguardo, quello col giovane ricco, quello con Bartimeo, quello con la vedova al Tempio. Passi avanti e sguardi, mossi dal desiderio di incontrare e stare con Gesù. È proprio per educarci a questa logica che tutto il cammino di quest'anno liturgico Gesù ci ha educati ad allenare i desideri, a purificarli, a raffinarli. Perché capita spesso, ricorda San Paolo, di fare quanto non si vorrebbe fare, proprio perché i desideri sono disordinati, sviano il nostro sguardo da ciò che è essenziale e guidano i nostri passi verso scelte sbagliate. In questo modo Gesù ci ha preparati a guardare a sorella morte anche in quel momento in cui ciascuno sarà chiamato a varcare la porta del cielo per andare incontro a colui che chiama il Signore Gesù, il Re dell'universo. Riprendendo gli elementi del sole, della luce, delle stelle, che perdono pian piano la loro luminosità, Gesù ci fa intendere che anche se le certezze che hanno orientato la nostra vita perdono di luminosità e di significato, di importanza, non dobbiamo temere. È tutto nei suoi piani. È vero, quello che noi pensavamo fossero le nostre stelle diventeranno stelle cadenti, ma nel cielo, nella vita di ciascuno, continuerà sempre a brillare la luce di Gesù. Ricordate quando Gesù era in croce? Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra. Sembrava tutto finito. Invece Gesù vinse la morte e spalancò la via al cielo, a conferma che cieli e terra passeranno, la mia parola non passerà, ricorda Gesù nel Vangelo. Molto spesso sorella morte si rivela in tutta la sua durezza, la sofferenza per il distacco, il disorientamento, l'incertezza sul da farsi, momenti bui che fanno parte della vita, momenti bui che però restano abitati dal Signore Gesù, luce del mondo, al quale siamo invitati a indirizzare i nostri desideri, avvolgere i nostri sguardi, verso il quale fare passi avanti. Un'esperienza che ci permetterà di ravvivare il dono che ci è stato dato e di venire sempre più figli della luce, riflesso della sola luce che è Cristo. E pazienza se non sentiremo sempre presente il Signore. L'importante è che Lui ci stia accanto, anche attraverso la nostra luce possa camminare sicuro verso il Signore che viene, verso l'Emmanuele, il Dio con noi, il Re dell'universo. E a questa parola, carica di luce e di speranza, come rispondiamo? La liturgia ci fa rispondere con questa parola dopo il canto del Gloria. O Dio, che vegli sulle sorti del Tuo popolo, accresci in noi la fede che quanti dormono nella polvere si risveglieranno. Donaci il Tuo spirito, perché operosi nella carità, attendiamo ogni giorno la manifestazione gloriosa del Tuo Figlio, che verrà per riunire tutti gli eletti nel Tuo regno. Io invece rispondo con un'altra preghiera, una preghiera che ormai trovate raccolta nel volume Il Respiro della Lode, edito dalla San Pino, dove sono raccolte le preghiere di tutte le domeniche dei tre anni liturgici. Le trovate in libreria. Signore mio Dio, io so che sorella morte non è la fine di tutto, ma è la fine che conduce al tutto, che sei Tu. Eppure, talvolta la fede traballa. La speranza si fa incerta. La carità non emerge. Di fronte all'appuntamento con sorella morte, non ti chiedo di capire tutto, ma aumenta la mia fede, perché impari a fidarmi di più di Te, mio Signore e mio Dio, perché comunque sia, io resto semplicemente un uomo. Grazie. Grazie. Grazie.